Ben ritrovati e ben ritrovati, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un bel like, missione molto chiara, raggiungere quota 80.000 iscrizioni in concomitanza con il termine di questa stagione, per poi assieme allargarci e programmare la prossima diannata calcistica che speriamo sia ben differente rispetto a quella attuale. Buon inizio di weekend, tra l'altro domani è il 5 maggio, non devo stare a dirvi quanto sia importante questa data storicamente per i tifosi della Juve, ma è una data importante per chiudere definitivamente, aritmeticamente, i giochi Champions, perché in caso di successo domani sera della Juventus in casa della Roma, beh, sarebbe finalmente Europa che conta. Io spero davvero che la Juve abbia la consapevolezza di quanto sia importante l'impegno di domani per chiudere questo discorso con tre giornate d'anticipo rispetto al finale di campionato. È vero che avremmo dovuto raggiungere questo obiettivo molto prima, considerando la proiezione di punti, quelli maturati in classifica nel giro d'andata, ma sappiamo perfettamente come siano andati questi ultimi tre mesi. Tre successi, considerando la Coppa Italia, complessivi, 13 punti in 13 gare. È inutile voltarsi indietro, lo deve fare esclusivamente la dirigenza per analizzare l'operato, dei soggetti interessati e per evitare che si possano ricommettere gravi errori, grandi errori in futuro, ma l'esercizio dei tifosi deve iniziare a essere uno solo, cioè questo countdown verso il termine della stagione, questo trascinarci cercando di mettere le mani, sicuramente sulla Champions, sulla Coppa Italia, e poi finalmente voltare pagina a tutto tondo. Non ne faccio solamente una questione legata al tecnico, perché c'è anche molto da fare all'interno della stessa area sport, quelle figure che dovranno arrivare di stampo giuntogliano, il mercato calciatori, perché allegri o non allegri questa rosa va profondamente rivisitata, a mio modo di vedere, ma avremo modo e tempo di parlarne. In tanti mi avete chiesto nelle scorse ore, ma cosa sta succedendo sul fronte a Adrian Rabiot, perché ci sono voci che lo danno molto vicino a Manchester United, qualcuno parla di un nuovo interesse dopo quello della scorsa primavera del Bayern Monaco, altri invece ipotizzano che potrebbe rimanere la Juventus se puntini puntini, e quindi facciamo un vigliore assunto. Mi risulta che ci siano stati dei contatti recenti, tra la dirigenza juventina e la mamma manager Veronique, proprio perché i rapporti sono ottimi. Ecco, questa è una roba che vi ho già detto più volte, quantomeno negli ultimi tre anni. Ci sono dei falsi miti, vedi la corrente di pensiero che sostiene che Madame Veronique sia complicato, che la Juventus l'abbia trovata complicata, una persona che non abbia rispettato la Juventus. A me è sempre stato detto che, ovviamente, il ruolo della mamma di Adrienne è quello di proteggere il figlio e di fare i suoi interessi, anche a livello finanziario, ma ha sempre rispettato la Juventus, ha sempre rispettato le persone che ci lavorano, ha avuto a che fare con più dirigenti, ma mi è sempre stato fatto un quadro di una persona profondamente intelligente e rispettosa. Poi è normale che analizzando il percorso di Rabiot lo si possa sentenziare con un calciatore che ha ricevuto molto di più rispetto a quello che ha dato, perché le prime stagioni sono state difficili, la passata è stata stupenda, questa, alti e bassi, insomma, il percorso di Adrienne lo abbiamo già visto, lo abbiamo analizzato, ne abbiamo discusso ripetutamente assieme e all'interno di un quinquennio, diciamo che ci sono stati alti e bassi, forse più bassi che alti, ma anche da contestualizzare al fatto che la Juventus, proprio in concomitanza con l'arrivo di Rabiot, poi successivamente e progressivamente abbia proposto una regressione a livello tecnico. Piaccia o non piaccia, Rabiot è uno dei calciatori più importanti di questa squadra, considerando anche il suo status di titolare nazionale francese. Ha 29 anni, quindi ancora molto da dare, ma si trova dinanzi a un bivio, ovvero scegliere il suo prossimo contrattore, l'ultimo probabilmente di questa carriera a top level. Ora, noi sappiamo perfettamente quale sia la situazione economica della Juventus e quali siano stati i motivi che abbiano portato la Juve a confermare Rabiot per un'altra stagione, sfruttando l'ultimo anno del decreto crescita e alzandogli l'ingaggio, perché magari qualcuno di voi non lo sa, ma Rabiot, quando ha sottoscritto il rinnovo annuale, praticamente la scorsa estate, gli è stato riconosciuto un aumento dell'ingaggio. Perché? Perché la Juventus ha potuto continuare a usufruire dei benefici del decreto crescita e perché poi, evidentemente, anche lo stesso Massiano Allegri, sapendo che non avrebbero potuto fare mercato e che, se fosse nato via Rabiot, difficilmente sarebbe arrivato un sostituto più forte, ha spinto molto con l'ormai ex DS Giovanni Manna affinché l'operazione potesse essere impacchettata. E tra l'altro fu proprio Manna, da quello che mi risulta, una delle persone più decisive ai fini di questo rinnovo, che con i tempi giusti, con la giusta diplomazia, aveva poi strappato il sì da parte di Adrienne. Cos'è accaduto di nuovo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi? Niente, perché Rabiot vuole prendersi davvero fino all'ultimo giorno disponibile per decidere il suo futuro. Attenzione, molti dicono, ma alla fine Rabiot rimarrà la Juve perché non ha alternativa. A me non risulta questo. A me risulta che più squadre abbiano approcciato già l'argomento, magari senza fare offerte ufficiali e quant'altro, ma guai ad associare, diciamo, Rabiot a un mercato inesistente, proprio perché è un classe 95, è uno che ha grande esperienza, ha giocato al Paris, ha giocato alla Juve, come abbiamo detto, è un titolare nazionale francese. Secondo me, alle giuste condizioni, si possono spalancare per lui delle porte interessanti. Dobbiamo dare per scontato che Rabiot lasci la Juve? Bisogna capire concretamente cosa accadrà per quanto concerne la panchina. Esempio, Thiago Motta è un allenatore ora, ma è una persona che ha avuto un ottimo rapporto con Adrienne, come ha messo da uno stesso diretto interessato in un'intervista rilasciata da Zon con Alessandro Matri. I due hanno giocato insieme a Parigi, hanno avuto modo di consolidare il legame. Io credo che mai come in questo caso sia un discorso tecnico, ma tecnico da associare prettamente all'aspetto finanziario. Perché se non hai più i benefici del decreto crescita, quell'ingaggio da 8 milioni netti a te azienda costa 16 lordi. Cosa fai? Decidi gli esporti per un contratto pluriennale, perché voglio immaginare che Rabiot non firmi più, quantomeno la Juventus, un'annuale, e quindi decidi di sottoscrivere un accordo di più anni, a cifre importantissime, che non abbraccia minimamente il concetto di sostenibilità. Perché di questo stiamo parlando. Se ogni intervista ci viene ripetuta la filastrocca della sostenibilità, e mi sembra che il football director, che siano giuntoli, ci abbia fatto capire in tutte le salse che la Juventus debba andare, stia andando e sia partita in quella direzione, confermare un giocatore a 7-8 milioni netti di 29 anni, che poi quindi magari può proporre un ulteriore passi indietro a livello di affidabilità fisica e quant'altro, quando superi 30, proprio succede di tutto, è un grosso rischio, è un grosso rischio. Per questo su queste basi il sentimento è che sia difficile arrivare a un'intesa. Però quello che vi posso garantire anche in questo 4 maggio è che l'entourage di Rabiot si prende davvero tutto il tempo disponibile per capire A, le mosse della Juventus, B, il mercato a tutto tondo, C, la volontà ovviamente dello stesso ragazzo che dopo questo percorso alla Juventus potrebbe legittimamente anche guardarsi attorno a modo di sfida personale, un nuovo challenge e capire eventualmente anche nuovi usi e costumi di altri paesi. Quindi i rapporti sono ottimi, ma non è detto che gli ottimi rapporti, anzi tutt'altro, portino poi l'asse, Entourage Rabiot, Juventus, a stringersi nuovamente la mano a maggior ragione se Allegri dovesse andare via e per me alla fine della fiera andrà via. La fine della fiera si intende dopo queste quattro partite, scusa, sono, sì, queste quattro partite fine, cinque, 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 perché ci sono ancora, aiutatemi voi, ormai è la mia memoria pessima, c'è questa gara qua, Roma, c'è la Salernitana, c'è l'Atalanta, c'è il Bologna e il Monza, cinque, ecco, sono ancora cinque, sono tante, sono cinque però. Quindi, questo continuo vociferè sulla B.O., fa parte del gioco perché è un potenziale free agent, ma ad oggi non è stato deciso ancora nulla, non ci sono accordi con Bayern Monaco, Manchester United, eccetera, eccetera, eccetera. C'è lo stesso atteggiamento dotato lo scorso anno esattamente di questi tempi, cioè prendersi tutto il tempo disponibile. E voi cosa fareste? Grazie. Grazie. Grazie.